Questa sera su Cilento Channel alle ore 21 e 15 torna la trasmissione Eccomi, il programma ideato e condotto da te Vito e che è molto apprezzato e seguito dai telespettatori di Cilento Channel. Allora dacci delle informazioni più dettagliate e poi invitiamo ovviamente il nostro pubblico televisivo a seguire la prima puntata. Beh diciamo siamo stati un po' condizionati con tutto quello che sta succedendo come dimostra anche questa intervista con le mascherine però siamo riusciti ad immaginare una quarta stagione che tenga conto appunto di queste condizioni quindi una formula rinnovata di Eccomi ma con le conferme dello stile che ha accompagnato questi tre anni. Questa appunto è la quarta stagione quindi devo dire con tanto piacere che le persone hanno continuato a chiedere va quando vengono le nuove puntate quindi una serie di nuovi ospiti che ci accompagneranno. Anziché avere degli ospiti che ci raggiungono nello studio andremo noi nelle loro case attraverso appunto le piattaforme telematiche però lo spirito con cui la trasmissione si sviluppa diciamo sarà lo stesso. Partiamo questa sera quindi per poi sviluppare diciamo tutta la serie di puntate con tanti begli ospiti veramente anche quest'anno. Vogliamo anticipare anche i telespettatori di Cilento Channel chi sarà l'ospite della prima puntata di Eccomi questa sera le ore 21 e 15? Allora l'ospite di questa sera è una giornalista di punto famiglia una mamma una moglie ma una giornalista anche impegnata proprio sul fronte della fede quindi sarà una bella testimonianza quella di stasera proprio perché insieme a lei toccheremo oltre che naturalmente il suo percorso molto bello e interessante ma poi naturalmente quello che ciascuno è chiamato a fare per vivere con pienezza anche l'essere cristiano nel mondo e quindi una giornalista come lei naturalmente ci accompagnerà proprio per offrire il suo contributo e il suo impegno. Un impegno che appunto può essere una bella testimonianza per tutti quanti noi.